Il Vice Presidente della Regione Marche, Mirko Carloni, presente in questa importante opportunità di Cagli, le opportunità del PSR. Questo è un ennesimo bando che è a disposizione del territorio voluto dalla Regione. Diciamo che intanto abbiamo scelto questa strada di entrare dentro le aziende agricole come questa di Nucci, dove si vede che c'è l'attività, dove si scopre e si sentono gli odori dell'agricoltura. Quindi stargli vicino non solo virtualmente ma anche fisicamente nonostante il Covid. Poi c'è un tema fondamentale, questa misura era molto attesa, era così come era attesa una semplificazione profonda delle misure del PSR, perché tante volte abbiamo sentito dire che erano troppo complicate, troppo burocratiche, abbiamo dato veramente un taglio fondamentale alla burocrazia togliendo tutti i preventivi. E questa volta la misura 4.1 che riguarda gli investimenti con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro vedrà una semplificazione importante, così come ci hanno chiesto le associazioni e gli agricoltori. È una misura che scadrà il 19 maggio e quindi fino al 19 maggio c'è tempo per chiedere un contributo per fare gli investimenti in agricoltura. Un settore complesso dove è necessario investire per tenere le persone impegnate nelle aree interne, per creare dei difensori della biodiversità, della qualità del nostro cibo, perché non dimentichiamoci che l'agricoltura è cibo e quindi è fondamentale che noi difendiamo questo livello facendolo diventare anche culturale e parlandone come se fosse veramente un presidio di salute e di qualità. E l'altra cosa, non secondaria, che chi fa questo lavoro ha fatica, sacrifici e quindi dobbiamo fargli vedere che la regione ha una politica agricola che veramente li sostiene. La nostra agricoltura è quella che negli ultimi anni ha visto una chiusura sempre passiva delle società, cioè tantissime aziende agricole hanno chiuso, forse più che in altri settori nelle Marche e quindi c'è stato un lento abbandono di questo mestiere che invece va ripreso e sta a noi rimettere al centro delle politiche l'agricoltura facendolo diventare più che un lavoro dignitoso ma un presidio che serve a tutti i cittadini.